Buongiorno a tutti e benvenuti e benvenuti all'interno della consueta rubrica del giovedì dedicata alle medaglie d'oro al valore militare ospitata sul canale di Erodoto TV oggi vi narrerò del gesto eroico di Aldo Turinetto nato a Albenga, provincia di Savona nel 1919, morto tragicamente nei Balcani pensate, nel 1942, appena all'età di 23 anni sottotenente S.P.E. del IV Gruppo Alpini Valle Battaglione Valchisone comandante di Plotone durante un attacco contro importante posizione fortemente presidiata si lanciava l'assalto alla baionette con le bombe a mano alla testa dei suoi alpini e, superato con il ruento impeto un tratto di terreno scoperto violentemente battuto dal fuoco di mitragliatrici nemiche giungeva per primo sulla posizione contesa contrattaccato, benché ferito continuava nella lotta esaurite le munizioni si lanciava su un avversario e, strappatogli il fucile manovrando questo a mo' di clava continuava con i pochi superstiti nella carita resistenza finché, colpito a morte immolava eroicamente la vita alla patria Nixic, quota 852 metri Balcania, 5 maggio 1942 e credo che questo sia uno tra i gesti eroici un po' più significativi tra quelli letti finora un ragazzo di 23 anni che, pur di difendersi lotta quello che abbiamo letto ci dà veramente l'idea la dimensione di un ragazzo di appena 23 anni e pensiamo ai ragazzi 23 anni di oggi ma fino anche a me immagino quando avevo 23 anni invece questo ragazzo di 23 anni lotta col fucile usando la mo' di clava dà proprio un'idea di attaccamento alla vita vera dà la dimensione poi della situazione di quanto la guerra sia un qualcosa di brutto di ciò che esista di più disumano al mondo ecco, diciamo così comunque, chiuso questo inciso ci accingiamo mi accingo ma ci tutti insieme mi accingo a leggervi la vita dell'eroe proveniente dalle colline milanesi dice col puntato mil puntato di Milano entrò all'accademia di Modena nel marzo 1938 e nell'agosto 1940 fu promosso sottotenente destinato al terzo reggimento alpini mobilitato allora in zona di guerra frequentò poi dal novembre dello stesso anno il corso di applicazione a Parma ritornato nell'aprile 1941 al reggimento passò col suo battaglione il Val Chisone a far parte del quarto battaglione alpini-valle di nuova costituzione assegnato alla 230esima compagnia partì infine per il Montenegro alla fine dell'anno come di consueto invece il nostro viaggio finisce qui io vi do appuntamento a giovedì prossimo mi scuso per magari avervi letto in maniera errata l'abbreviazione del paese da cui proveniva che ripeto è appuntato col milanese fatecelo sapere voi nei commenti io vi saluto ed il mio saluto come sempre esteso con quello di Enzo ci vediamo giovedì prossimo un caro abbraccio affettuoso ed una buona prosecuzione di giornata da Mario grazie a tutti Grazie a tutti.